Stava tormentando da mesi una 28enne con atti persecutori, per questo un uomo di 69 anni è stato arrestato dalla squadra mobile della questura di Arezzo lo scorso 23 luglio. Le indagini erano iniziate nel mese di marzo, quando la ragazza, stanca delle continue molestie, aveva denunciato tutto alle forze dell'ordine. Il 69enne aveva da tempo messo in atto una vera e propria persecuzione nei confronti della donna, dipendente di un centro commerciale ad Arezzo. Appostamenti quotidiani, pedinamenti anche al di fuori dei luoghi di lavoro e tentativi di approccio di natura fisica. Ai continui rifiuti della giovane aveva proseguito con esplicite avance e poi atteggiamenti minacciosi, come biglietti lasciati sull'auto fino ad arrivare ad ingiurie e minacce anche in presenza dei colleghi di lavoro. La donna era arrivata a dover cambiare il suo stile di vita fino al momento in cui ha preso coraggio e ha denunciato tutto. Il 69enne, non nuovo a comportamenti simili, aveva in passato tormentato altre donne che lavoravano all'interno di esercizi commerciali. Per questo gli inquirenti hanno attivato il codice rosso, procedura che consente una corsia preferenziale per le denunce e le indagini riguardanti i casi di violenza nei confronti di donne o minori e il successivo inasprimento delle pene. L'uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari. L'uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari. L'uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari.